Durante il biagno ho conosciuto delle persone che avevano un collettivo, un artiste run space ai limiti di Roma a Torbella Monaca. Fortunatamente hanno deciso di prendermi a bordo e da un anno a questa parte io faccio parte del gruppo di spazio in situ. Il spazio in situ mi ha dato la possibilità di poter fare mostre o partecipare a collettive. Lavorare in un gruppo ti prepara molto bene a quelle che sono poi le richieste del mercato, del lavoro. Il consiglio infatti che vogliamo dare anche oggi a questi ragazzi che stanno ancora frequentando l'accademia è proprio quello anche di far vedere come ci siamo mossi noi una volta finito il percorso di studi. Abbiamo subito comunque cercato uno spazio per incominciare a produrre dei lavori e averci uno spazio anche espositivo, quindi abbiamo un art in run space che ci permette di fare delle mostre, quindi autogestirci in quello che facciamo là dentro presentando anche mostre di altri artisti al di fuori del nostro gruppo. Nel confronto con i miei pari che tra le altre cose avevano iniziato il progetto spazio in situ cinque anni prima di me ho trovato il momento di scambio adatto per riuscire a capire come relazionarmi all'ambiente reale e lavorativo.